Un bilancio, non dico di fine mandato, ma è chiaro che in un'ottica di piano triennale è il bilancio che in qualche modo cerca di dare un segno anche alla prosecuzione di questa amministrazione, un segno anche un po' di quello che è stata questa amministrazione. Quindi si sono concretizzati tutti quegli obiettivi che noi c'eravamo posti, che vanno dallo stanziamento di risorse per i servizi alla persona, che rimane il primo obiettivo del bilancio di parte corrente, quindi dei servizi, quindi welfare, scuola, sicurezza, anziani, disabili. Tutto questo si è concretizzato con lo stanziamento di importanti risorse che fanno un po' il pari con quello che poi in questi ultimi anni questa amministrazione ha messo in campo. L'altro obiettivo è stata la riduzione del debito, quindi questa è un'altra gran bella notizia in una fase in cui il debito pubblico in Italia non vede, come dire, la luce in fondo al tunnel, quindi continua a crescere, a esplodere. Noi nel nostro piccolo abbiamo estinto 20 milioni di euro di debito da quando ci siamo insediati. Abbiamo al netto poi dell'attivazione di un mutuo importante di 18 milioni per la realizzazione della più importante opera del piano fognario, che è la vasca di eliminazione Kennedy, quindi ne avremmo estinti quasi 38. Vi dico un po' di numeri perché comunque si parla di bilancio. Il pagamento a 30 giorni, questo è un altro degli obiettivi fondamentali, negli ultimi tre anni di oltre 118 milioni di euro a imprese, quindi per la parte di investimenti invece, non parlo di investimenti previsti perché chiaramente si potrebbe sempre obiettare li farete o non li farete, qui parliamo di opere realizzate, di pagamenti fatti e quindi anche in un'ottica di attenzione verso le imprese vanno sia, perché sono poi quei soggetti che oggi devono far riprendere fiato l'economia e devono creare occupazione, quindi benessere le nostre famiglie, va sicuramente questa modalità anche che noi abbiamo messo in campo di attenzione di pagamenti verso le imprese e l'altro è l'iniziativa cosiddetta della no taxare, quindi incentivare nuove imprese sul territorio.